Musica Personalmente avendo curato io l'opuscolo l'ho ritenuto un atto d'amore ma un atto necessario perché noi non dobbiamo dimenticare che l'ospedale di Polla nel 1905 in occasione della posa della pietra fondamentale l'ospedale di Polla è stato realizzato con i soldi di Luigi Curto, un emigrato pollese all'indomani dell'Unità d'Italia il quale aveva fatto fortuna nel campo del commercio dei cereali e dopo aver contribuito alla realizzazione del nuovo ospedale italiano di Buenos Aires che ancora oggi è il più importante dell'America Latina, volle dotare il suo paese di un ospedale. Poi in seguito c'è stata anche la donazione di questa statuina da parte di Aldastabile nel 2002, statuina che era stata collocata all'ingresso. Devo dare atto che è stato l'attuale direttore sanitario, il dottor Luigi Mandia, a volere che la cappella fosse intitolata a nostra signora di Lucanna. Io con questo libretto, ripeto, ho voluto soltanto ricordare questo avvenimento, diciamo a futura memoria perché ovviamente credo che anche i nostri figli debbano conoscere da dove viene quell'ospedale perché non è stato messo lì per caso, ha una sua storia, una storia ultracentenaria, sono 114 anni. Infatti una lunga storia ultracentenaria frutto, come lei ha appena sottolineato, dell'amore per questa terra, per la propria terra dei nostri emigrati e allo stesso tempo però anche per la terra che li ha accolti perché la Madonna di Lucanna è la vergine protettrice dell'Argentina. Sì, intanto voglio ricordare che l'Argentina è una terra nata dal sudore degli emigranti, come si dice normalmente, e che è stato il paese che ha ospitato il maggior numero di italiani. Ma quello che mi ha colpito in questa vicenda è stato il rapporto tra la storia della Madonna di Lucanna e San Cono perché hanno qualcosa in comune, molto importante, tra l'altro il vice parroco del santuario di Lucanna e di origini tegianesi. Ma non è questo, il problema è che San Cono, come sappiamo, nel 1271 era già morto e il comune di Padula e quello di Teggiano litigavano per conservare i resti mortali del giovane santo. Per dirimere questa questione fu deciso di mettere il corpo di San Cono su un carro trainato da bui e dice dove si fermano i bui, nel paese in cui si fermano, quel paese custodirà i resti di San Cono. Sappiamo benissimo che i bui saltarono Padula, arrivarono a Teggiano, si fermarono e quindi da allora Teggiano, nella cattedrale, custodisce i resti di San Cono. Qual è la simbologia con la Madonna di Lucanna? Che anche la Madonna di Lucanna è arrivata dove si trova adesso, trainata, o meglio, su un carro trainato da bui perché un ricco possidente aveva chiesto a un amico in Brasile di, come dire, di mandargli una statuina della Madonna perché voleva costruire una cappella. Questo amico gli mandò due statue e a un certo punto, quando poi è scesa dal mare, furono caricate queste due statue su un carro trainato da bui, era quello il mezzo di locomozione dell'epoca, siamo nella 1630 se non ricordo male e quindi a un certo punto i bui si fermarono e ripresero il cammino solo quando tra le due statue fu scaricata quella della Madonna che oggi è nel santuario di Lucanna e fu deciso di fare lì prima una piccola cappella con molta devozione da parte dei fedeli e poi dopo è stato fatto l'attuale Tempio di Lucanna che proprio l'anno scorso è stato visitato anche dal nostro Viscopo. Una storia che veramente ci avvicina alla Madonna di Lucanna, lei ha parlato del stato della Madonna che è arrivata però all'ospedale di Polla nel 2002, o meglio è arrivata Polla nel 2002 solamente però recentemente è stata posizionata poi nell'ospedale. Ancora una volta è stato un dono di una nostra emigrata in Argentina. Sì, è stato un dono di Aldastabile, la Madonna è stata collocata in ospedale in una posizione diversa prima sempre nel 2002, poi qualche anno fa è stata messa all'ingresso tre anni fa fu portata da un gruppo di operatori dell'ospedale fu portata nel 2016 a Roma dove fu benedetta da Papa Francesco il quale quando vide la Madonna di Lucanna nelle nostre braccia praticamente si commosse quasi e la benedisse insomma questo ci ha fatto molto piacere 16 gennaio del 2016 ora contiamo, speriamo di poterla quanto prima magari trasferire nella cappella nel 2016 ma anche dopo ci sono stati anche degli altri doni che sono arrivati all'ospedale di Polla proprio dall'Argentina parliamo dell'opera realizzata nella precedente cappella l'opera in... Sì, l'abbraccio, l'abbrazzo come si dice in gergo è un'opera in ferro battuto realizzata da Leandro Marmo un giovane scultore originario di San Rufo diciamo di prima generazione perché praticamente il papà era emigrato negli anni 60 Leandro aveva perduto il padre all'età di 12 anni diciamo che fu preso, uso questo termine forse anche impropriamente, sotto tutela dal vescovo Bergoglio e quando Bergoglio si è dovuto trasferire a Roma perché è nominato Papa, diventato Papa Francesco Leandro venne a Roma e realizzò per Papa Bergoglio due grandi opere la Madonna di Lucanna e il Cristo dei poveri la sua caratteristica è quella di lavorare in ferro battuto e questo ha colpito il Papa perché come sappiamo diciamo un pallino del Papa è quello di combattere la cultura dello scarto e queste opere di Leandro Marmo sono state fatte in ferro battuto si trovano nei giardini vaticani, furono benedette da Papa Francesco e queste opere sono state inserite nel libro La mia idea di arte di Papa Francesco scritta a quattro mani con una Tiziana Lupi, una giornalista di Roma e in questo libro Mondadori il Papa commenta undici capolavori a suo giudizio ricordo soltanto qualcuno, la Cappella Sistina, la Deposizione di Caravaggio l'Obelisco di Piazza San Pietro la mitica Renault Bianca con 400.000 km donata agli don sacerdote del Veneto e le ultime due opere commentate sono quelle di Alejandro Marmo poi la copertina di questo libro è proprio l'abbraccio che rappresenta il simbolo di questa donna madonna che è stata poi donata anche all'ospedale di Polla sta diventando un simbolo in tutto il mondo perché ne ha già fatte molte copie in Argentina al comune di San Rufo l'ha donata e nella stessa occasione in cui poi il giorno dopo l'ha donata all'ospedale di Polla un'altra opera simile è stata collocata all'uscita 3 internazionale dell'aeroporto internazionale di Fiumicino proprio nei giorni scorsi ne ha messo un'altra Santa Fe cioè sta diventando il simbolo dell'unione tra i paesi che affacciano sugli oceani cioè tra l'Europa e l'America del Sud Bene, proprio l'abbraccio è parte di questo libricino o cosa racconta in questo piccolo puscolo che poi peraltro voi avete organizzato Io ho potuto ricordare innanzitutto un po' fare una storia della Madonna di Lucana perché è giusto conoscere la storia del perché c'è stata questa decisione da parte del dottore Mandia però poi ho anche ricordato alcuni personaggi molto importanti che hanno scritto pagine importanti della storia dell'Argentina anche nel campo religioso penso per esempio a Don Velesiano De Vita il sacerdote di Padula emigrato nel 1867 contro il parere della famiglia era un sacerdote, non aveva certi problemi di lavoro Don Velesiano De Vita costruì una delle più belle chiese di Bonsaires la chiesa di San José de Flores la prima chiesa dedicata a San Giuseppe e in questa chiesa a 18 anni entrò Papa Bergoglio per confessarsi e ne uscì con la decisione di farsi sacerdote poi ho ricordato un altro grande figlio di emigrati del nostro Vallo di Diano Monsignor Rodolfo Bufano originario di Polla, vescovo di San Gusto dico soltanto questo che lui era molto ben visto da Papa Giovanni Paolo II perché aveva abbracciato diciamo l'idea del Papa della nuova evangelizzazione nell'America del Sud tant'è che quando nel 1982 il Papa è andato in Argentina ai mercati generali di fronte a 500.000 argentini il saluto gliel'ha dato proprio Monsignor Bufano lui quando veniva a Polla parlava di questa grande emozione e poi c'è qualche altro ovviamente ho parlato di Luigi Curto e di Aleandro Marmo e mi sono fermato qui perché è un lavoro che è stato fatto in poco tempo sfruttando anche il lavoro che avevo fatto nel 1995 con il coraggio di partire che devo dire mi è stata utile ed ha consentito mi ha consentito di stampare questo piccolo buscolo Bene, da quello che ha appena detto concludiamo insomma c'è il messaggio dello storico per i giovani di non dimenticare mai la storia di non dimenticare mai da dove veniamo e come siamo partiti vero? Soprattutto da dove veniamo ma soprattutto conoscendo la storia la storia non è che ci dà le indicazioni però ci consente di valutare le cose che sono state fatte nel passato e ci consente di essere eclettici cioè prendere il meglio dovunque esso si trovi che cosa significa questo? Significa che conoscendo la storia se ci mettiamo d'impegno possiamo capire le cose che non dobbiamo fare gli errori del passato che assolutamente vanno evitati nella storia del terzo millennio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti